Ciao, sono Riccardo Chiarello, gioco al centrocampo, sono una mezzala e da questa stagione faccio parte della grande famiglia della Gianna Erminio. Da quando ho firmato qui con la Gianna ho ricevuto ottimi messaggi di benvenuto da parte dei tifosi della Gianna Erminio e questo mi fa molto piacere soprattutto vivendo qui a Gorgonzola perché io sono di Vicenza e noto che la città vive il calcio, vive questa magica favola e sono molto contento di farne pari. Da questa stagione mi aspetto di fare un bel salto in tutti i sensi, di fare sicuramente una grande esperienza e per quanto riguarda gli obiettivi mi piace molto far parlare il campo e quindi in questo momento posso solo dire che darò il massimo per questa maglia insieme a tutti i miei compagni di squadra. Invito tutti i tifosi della Gianna Erminio a seguirci qui partita dopo partita perché mi piace tanto considerare il tifoso come un compagno di squadra ancora più forte che ci accompagna in ogni avventura, in ogni battaglia.